Ho riunito in forma di libro 35 monologhi. Cosa ho fatto? Mi sono messo nei panni di 35 donne fantastiche e lunattiche, donne che non hanno mai avuto figli nelle loro epoche storiche. Così ho impersonato Jane Austen, ho impersonato Greta Garbo, Zelda Zonk alias Marilyn Monroe, ho impersonato Gertrude Stein e sua moglie Alice Bitoklas, l'elenco sarebbe lungo. Ho impersonato anche donne del mito, Daphne, Ninfa Eco, Minerva Artemide, Athena e perfino Lilith, donna che sta alle origini di tutto il mondo femminile. Grazie. 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 Grazie.